Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come scaricare e craccare Sonic iOS Pro 13. Per una cosa andiamo nel link di descrizione, sarà questo qui. Clicchiamo su Download Torrent, facciamo che si carichi la pagina e clicchiamo su Pick Air. Ora si scarica il Torrent. Una volta fatto ciò, clicchiamo su Apri e ora si aprià o con Torrent o con BitTorrent, dipende da che programma avete. Ora clicchiamo su OK e aspettiamo che il Torrent si scarichi. Una volta che il Torrent si è scaricato andiamo nella cartella in cui avete salvato il Torrent. Stiamo su Download in questo caso, mettiamo Sonic iOS Pro e avviamo il Setup. Però prima di fare ciò, disattivate l'antivirus. Clicchiamo su Sì. Mettete la lingua desiderata, io metto in inglese e facciamo su Next. Ora mettete su Install Current Version e mettete su Next. Accettate i termini di utilizzo e condizioni e facciamo Next. Ora facciamo, io prendo una scorciatore sopra il desktop, metto questa spunta e facciamo questa. Aspettiamo che si installi a dopo. Una volta che Vegas Pro 13 ha finito l'installazione, clicchiamo su Finish. Ora andiamo alla cartella della Crack e avviamo questa applicazione. Clicchiamo su Sì e clicchiamo Patch. Io do il volume perché questa cartoncina è molto fastidiosa. e ora andiamo su Exit. Ora chiudiamo tutto e avviamo Sony Vegas Pro. Vediamo quasi se la Crack funziona. Ecco come potrete vedere Sony Vegas funziona. Ragazzi per oggi è tutto, se vi sono stato di aiuto. Iscrivetevi o mettete un bel video in viaggio. Vale ragazzi.